buongiorno bambini buon inizio di settimana e lo facciamo con la musica vediamo se riconoscete buongiorno bambini con questo bel balzer del moscerino diamo il benvenuto alla signora primavera e sì perché proprio il mese di marzo è il mese dove comincia la nuova stagione la stagione dove i brocchini diventano farfalle dove i fiori nascono di nuovo sbocciano tantissimi fiori e quindi oggi siamo qui per cominciare il calendario della settimana e siccome inizia una nuova settimana vediamo che giorno della settimana è oggi è lunedì era lullullu era di 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 era l'era di era lunedì e l'ho detto poco fa siamo nel mese di ma marzo e lo mettiamo qua e allora bimbi invece vediamo chi mi sa dire allora in quale stagione siamo l'abbiamo appena detto abbiamo salutato il signor inverno e diamo il benvenuto alla signora primavera e usiamo come simbolo proprio un fiorellino e lo mettiamo qui e poi vediamo oggi che tempo fa se noi alziamo il nasino all'insù vediamo che abbiamo il sole ma c'è anche qualche nuvoletta e allora mettiamo il sole qui in alto ma accanto una nuvoletta ed ecco finito per oggi il calendario del lunedì ciao